Riresti che c'è... Akan! Chi sei? Un lupo travestito da pecora, ricordi? Sei tu! Non ti avevo riconosciuta senza costume È un piacere rivederti, amica mia Anche per me E Chiara? Ha ancora un padre, grazie a te Se ben ricordo, siamo serviti entrambi per uscire da quella cella Allora, come stai? Faccio del mio meglio per non sprecare questa seconda opportunità, ma... Ho le mani legate Qual è il problema? Si dà il caso che Aaron, un uomo che vive qui, lavori alla caserma delle guardie nella città alta Gli ho chiesto di curiosare in giro per me, ma non ha fatto ritorno Temi che gli sia accaduto qualcosa? Lo teme sua sorella È sempre in pensiero per lui, ma stavolta non ha tutti i torti Se ho messo Aaron in pericolo e la donna che gestisce questa topaia lo scopre Io e Chiara saremo nei guai fino al collo Potrei andare io a cercare Aaron Se si è messo nei guai potrei riuscire a tirarlo fuori In effetti è una cosa che ti riesce bene Hai ancora quel travestimento da sacerdote? Sì, naturalmente Bene, Aaron è il guardiano della caserma della città alta Con quel travestimento riuscirai a entrare Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Aron, non temere. Sono... Grazie a tutti. questi simboli non hanno senso. Sembra un codice. Grazie a tutti. grazie a tutti. Che io, che io, che io... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.